In un mondo pieno di spazzature, dove la gente butta le cose per strada in un'epidemia Hong Kong mai vista e le persone camminano tra la spazzatura, la scienza può aiutarci a impedire questo comportamento. E poi, gente che raccoglie cose, tipo le coppe, il caffè, quello è un condom, Dio mio. E poi, la la la, montaggio di scienza, montaggio di scienza, velocizziamo, cose che richiederebbero molto tempo, invece nel video sembrano brevissime. E poi questo. Il risultato del test del DNA fatto da questi scienziati, o perlomeno i veri scienziati, non so se quelli nel video fossero degli attori oppure no. Ho sempre dei dubbi quando vedo liquidi colorati e qualcuno che li fa girare dentro una provetta. Ma sta roba funziona e sto parlando di una tecnologia che è stata inventata negli Stati Uniti e che, appunto, Hong Kong ha deciso di utilizzare per una sua campagna, che dovrebbe poi portare a questo. Ho visto che grazie al DNA estratto da ciche di sigarette e condom, che c'è il DNA anche lì. Come in tutto ciò che viene a contatto col vostro corpo, le vostre mani, i vostri piedi, qualsiasi altra cosa, porta delle tracce di DNA che possono poi diventare una rappresentazione tridimensionale della vostra faccia. Cioè qualcuno che già fa questa cosa è spaventosa, secondo me, perché poi apparentemente, visto che c'è una roba in 3D, si può anche stampare in 3D. E puoi avere sta roba qui e magari parlarne alle feste, sicuramente sei un figo con l'altro sesso, funziona veramente bene come modo di rompere il ghiaccio. Ma il punto è, può secondo voi essere una campagna che funziona? E soprattutto funzionerebbe in Italia prendere le facce delle persone, accusate di aver buttato delle robe per terra e poi schiaffarle su un cartellone, in modo che tutti possano vederle, perché in Italia è un problema che esiste. Il problema di buttare la roba per strada, che peraltro mi fa incazzare a bestia, è proprio sintomo di ignoranza. E l'ignoranza, in questo caso, si esplica nel non fregarsene minimamente degli altri. Perché ricordiamoci che per quanto tutti gli esseri umani, quindi tutti, io e te, siamo degli esseri fondamentalmente egocentrici, siamo al centro del nostro universo, è la grandezza di quell'ego, è la capacità di bloccare la crescita di quell'ego, fare spazio a quello degli altri, per rispettare gli altri, che traccia la linea di demarcazione tra una persona di merda che non vale la pena di essere ricordata e un grande uomo, una grande donna. E proprio per questo riesco a immaginare un sacco di persone che inizierebbero a buttare le cose per terra nella speranza di comparire sui cartelloni e dire, hey guarda, questo sono io, e poi ci si fa i selfie e tutto il resto, non lo so, magari sono io che sono troppo negativo, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Parlando invece di un sacco di altre cose nella consuetta carrellata di robe interessanti che ho trovato in giornata. Sponsorizzata di nuovo da me, giusto per ricordarvi che continuo a partecipare ai Macchianer Awards, ve lo dirò ancora un paio di volte, poi la smetterò perché sennò divento pallosissimo. Il punto è che se andate in descrizione, mi votate, dovete compilare molto il forum, peraltro non potete mettere solo il mio nome nella categoria video, dovete metterne almeno 8 se non sbaglio, ma sono sicuro che avete un sacco di personaggi che vorreste vedere sul palco a Rimini, poi dovrei finire in una rosa di 10 candidati e a settembre si voterà di nuovo e probabilmente a quel punto perderò, ma magari no. Link in descrizione. Assieme a un sacco di altra roba, comprese robe che non sono in realtà delle notizie, sono cose che a me sono piaciute e che penso potrebbero piacere a molti di voi, come questa estensione di Chrome che si chiama The Great Suspender. E se siete dei lurker come me, che quindi aprono 800 milioni di pagine al secondo e poi piano piano si leggono tutti i tab, potreste trovarla utile perché dopo un po' sospende i tab aperti e impedisce che il vostro computer esploda, perché ne avete 800 e partano musichette, partano pubblicità, ma semplicemente quei tab si succhino le energie della vostra macchina. Orazio, non c'è bisogno che mi ringrazi. Tanto l'internet sta già impazzendo per questa roba che è recentissima. Un'altra che invece non è affatto recentissima è dell'anno scorso, ma io l'ho scoperta adesso e voglio farvela vedere, è un video che mostra il lavoro di un artigiano giapponese, giusto per ricordarci che il Giappone è un universo a parte e questo tizio praticamente fa delle bambole che gli giri la testa e fanno un suono. Vedere tutto il processo di costruzione di questa roba è fantastico, magari sono io, a me piace molto vedere gli artigiani che fanno cose, è spettacolare secondo me. Come è figo un video che è stato fatto con la nuova tecnologia della quale abbiamo parlato di registrazione a 360 gradi, che prevede l'utilizzo di robe tipo queste o qualcosa di simile. Si tratta tendenzialmente di videocamere che tu magari metti in un posto e registrano a 370 gradi, non 360, 70 è un po' volevo esagerare. Il Ministero della Sanità avrebbe fatto una partnership con Elio e le Storie Tese che infatti nel loro canale di YouTube hanno iniziato a pubblicare giornalmente dei brevissimi video di pochi secondi nei quali parlano dei danni relativi all'uso e abuso di alcol quando si è molto giovane, specialmente quando ancora non si è maggiorenni e poi alla fine hanno pubblicato questa canzone facendo una sorta di concertino che potete vedere come se foste all'interno della stanza. Sul loro canale di YouTube è stato anche postato il video che però non ha questa funzionalità 3D, è semplicemente qualcuno che usa direttamente il sito e che ha pochissime views, quindi cerchiamo di migliorarle. No, non sono stato pagato, anche se avrebbero potuto pagarmi. Bisogna impararla, cosa cosa. Se volete fare delle robe su YouTube, rivolgetevi agli YouTuber, non fate le cose da soli perché se no non vi caga nessuno. È giusto, la butto lì, la dico lì, comunque questa roba è figa, guardatela. E se ancora non foste convinti della qualità dei link che vi lascio in descrizione, c'è anche questo che non è uno spezzone che ho tagliato io, è tutto il video di presentazione sinora del nuovo capitolo di Doom. Tutti quanti sono saltati sulle sedie, sono impazziti, sta roba è fantastica, il nuovo Doom sarà bellissimo. Il punto è che io sono terrorizzato, invece, che possa non essere bellissimo. O perlomeno che possa esserlo, ma non nel senso classico di Doom, che sei tu, un fucile, tutti morti, mostri ovunque, che arrivano dall'inferno. E tu che spari a ripetizione con lo shotgun, perché nelle ultime ore sono state diffuse delle altre immagini che sarebbero apparentemente un mash-up tra cinematiche e gameplay, che però mostra una roba che ricorda molto di più Call of Duty. Quindi non lo so, sono terrorizzato che possano rovinare Doom, anche perché tutti i Doom che sono usciti sinora non mi hanno mai deluso, nemmeno l'ultimo capitolo trovavo che fosse fantastico, era terrificante sentire parlare in latino. Il latino è sempre terrificante, ok? Non parlate in latino, mai, nemmeno quando vi interrogano. Dite, l'ha detto Shooter, è un tizio che fa uno show per famiglie. C'è questo, anche, comunque. Questa roba che state guardando ha fatto ieri il giro di tutti i social network dell'universo perché è stata scattata apparentemente nella stazione della metro di State Street a Boston. ed è stata scattata venerdì sera da una persona che passava di là e non ha particolarmente apprezzato quello che stava succedendo, premesso comunque che noi non vediamo quello che stava succedendo, quindi magari la persona in ginocchio poteva benissimo essere impegnata a riparare un bottone. Cerchiamo di non pensare sempre il peggio, signori. Perché subito ci sono state le lamentele dicendo, dov'è la polizia? Io non voglio che qualcuno pratichi sesso orale davanti a me. Mentre sto andando a lavoro, effettivamente non è il massimo. Comunque, giusto che ci siamo, avrebbe potuto dire qualche cosa al tizio perché non c'è nessuna situazione peggiore di essere confrontato da una o due persone che si lamentano mentre hai il cazzo di fuori. Non c'è nessuna situazione nella quale potresti uscirtene indenne sotto al profilo morale, perlomeno, sotto a quello fisico, non lo so. Magari il tizio è effettivamente molto, molto dotato e avrebbe anche potuto utilizzarlo come oggetto contundente. In un certo senso ci spero, perché avrei voluto dire una roba del genere in Breaking Italy. Sarebbe una notizia fantastica, farebbe un buon titolo. Il punto è che WTF, ma soprattutto, tre anni di carcere. Che poi non possiamo nemmeno fare il classico discorso è negli Stati Uniti, quindi tre anni. Se li farebbe in Italia, non se li farebbe. Perché ipotizziamo anche che ti becchino e le pene siano le stesse. Vogliamo davvero vivere la vita così? Magari un giorno qualcuno ha accesso alla tua finita penale, un giorno, quando stai comprando qualcosa, quando devi fare un colloquio di lavoro e vuoi sentirti dire Ah sì, lei è quel tizio che è stato conbrannato a tre anni per aver fatto o ricevuto sesso orale alla stazione termica. Non c'è di peggio. Oddio, qualcosa di peggio c'è, ma non tantissimo. Quindi occhio a quello che fate. E state lontani dalle droghe, ragazzi. O no, oppure sì. Dipende da che cosa si guarda, da che cosa si sta analizzando e soprattutto dal fatto che per quanto mi riguarda il dibattito sostanze illecite perché poi, come al solito, dire droghe è una stupidaggine è sempre più interessante. Ora si inizia a parlare di legalizzazione anche per scopo ricreativo di sostanze molto leggere come la marijuana, ma anche per cominciare a fare dei test clinici, degli studi importanti, quindi non a casa della gente, ma nei laboratori, su sostanze che sono a lungo state moltissimo stigmatizzate come ad esempio l'LSD. Un lungo e interessantissimo articolo del Guardian, infatti, parla della possibilità di reintrodurre l'LSD e altri allucinogeni come certi tipi di funghi dei quali sicuramente nessuno di voi ha mai sentito parlare, ne è vero, nel complessissimo campo dei trattamenti per la depressione, l'ansia. In prima linea a sostenere questa idea c'è questa donna, Amanda Fielding, quarantenne, che si occupa da tantissimi anni di queste tematiche. E io trovo fantastico quando parlo con qualcuno, perché poi è un argomento che a me interessa moltissimo, come moltissime persone, ancora a causa di uno stigma sociale che loro peraltro hanno vissuto, tramandato dalle generazioni precedenti, siano contro ogni tipo di studio, ogni tipo di sperimentazione per uso medico. Semplicemente perché sì, senza rendersi conto che moltissimi farmaci attualmente in circolazione, come l'Oxanax, siano delle sostanze allucinanti, molto molto forti, che infatti vengono utilizzate anche per scopo ricreativo. Trovo che il dibattito sia fantastico, in descrizione vi lascio tutto l'articolo, che è molto controverso, perché anche se sempre più scienziati iniziano ad abbracciare questa ipotesi, la necessità di sperimentare e studiare robe sulle quali la scienza improvvisamente ha mollato tutto quanto, a partire dagli anni 60 in poi, non tutti gli scienziati sono d'accordo e comunque questa stessa persona, alla quale peraltro hanno fatto delle bellissime foto, queste robe sono veramente fantastiche, sembra uscita da Harry Potter, ha anche delle posizioni che di scientifico non so quanto abbiano, tipo esiste un video nel quale lei si fa una sorta di buco sulla fronte, che è terrificante, ma che secondo la donna avrebbe avuto un impatto positivo sulla sua vita, vi lascio il link in descrizione del video, se voleste vederlo è censurato, quindi non si vede niente di terrificante, e l'idea che è terrificante è di sicuro non porta acqua al mulino della sua causa. E questo è tutto quello che avevo per voi, per oggi Gentaglia, grazie per aver guardato, grazie per continuare a tornare tutti i giorni qui, nonostante il fatto che YouTube sia rotto da un po' di tempo e le notifiche delle iscrizioni non arrivino, non vediate i nuovi video, molti di voi vengono a cercarlo tutti i giorni, un grazie soprattutto a voi che siete alla schiena di Breaking Italy e continuate a mandarlo avanti e rendete tutto quanto fantastico. Questo è Cristian e quest'altro è Pier Stefano, sono i nostri due alfieri per oggi, grazie anche a voi ragazzi, ci vediamo domani alle 14. grazie a tutti all'ultima massata,